ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi volevo sistemare con voi la mia makeup collection mi dispiace di non aver più pubblicato video in questo periodo solo che sono in stagio scolastico e non ho per niente tempo quindi la mia makeup collection fa paura aperte qui sul lavandino perché io ce l'ho in bagno il tutto tutti i miei trucchi tutti i miei prodotti sono in bagno quindi sui lavelli diciamo è tutto in ordine aperti i pennelli da lavare però nei cassetti c'è il disastro quindi ora insieme a voi andiamo a mettere a posto ok direi di iniziare a farvi vedere il mio bellissimo manellino che mi ha preso mia madre è questo qua regolabile metto a fuoco ok è bellissimo invece molto non ho le unghie ragazzi perché sono in stagio vabbè vorrei inserire da questo cassettino qua se lo metto a fuoco ok allora faccio un termometro che non so cosa c'entri va bene qua abbiamo questo cosetto qui che serve per togliere punti neri io non ci sono mai riuscita in realtà ma va bene poi abbiamo questa e questa qua che sono due limette di ferro chi usa mia nonna veramente quando mi servono proprio perché devo fare veloce senza prendere le mie poi qua ci dovrebbero essere le forbucine come vedete poi qua c'ho i tagli a unghie un coton fioc che è caduto da qui vedete quanto primo c'è un casino qua ci sono dei coton fiocchi tagli a unghie qui questo cosa qua cioè queste due cose qua non so cosa siano ma sono dei miei genitori quindi lascio lì faccio il mio capello c'è il mio capello ovunque in realtà ok poi ci sono queste due molettine che non dovrebbero andare qua ma dovete in colloca per i capelli e qua ci sono tutte le pinzette che sono sparse abbiamo questo qua che è un come si chiama deodorante in stick per le ascelle poi questo qua è il mio adorato fondotinta che sta per finire e va sotto quindi lo spostiamo qua abbiamo dei coton fiocchi che vanno qui non so perché fossero lì qua un dentifricio che è quello da viaggio questo qua invece è per le tinte che è di mia madre quindi va dove ci sono le sue tinte ok questa qua è un'altra pinzetta scusate l'inquadratura poi questo qua pettine questi qua sono i coton fiocchi che uso per struccarmi cioè per togliere non so come dire togliere quello sbaglio per aggiustare il il capo che fa malissimo usa oggi che so ma questo qua sono le mie pinzette preferite e lui ok questa parte qui direi che è a posto andate questo in più ok poi a posto ok iniziamo vorrei vedere questi qua sono i miei pennelli occhi a parte questo è quello dell'illuminante questo qui e questo è quello che vuole per le amache uso per le maschere infatti è in due dito un pochettino invece questi qua sono tutti condivisi poi c'è una copertina di uno per gli occhi poi c'è la vallina qua c'è il garnier skin care pur active che è un gelo pulificante che uso tutte le mattine per pulire il viso poi c'è il sapone per la mani del bagno qua c'è il mio profumo al lavone e qua ci tengo le spazio da quelle case lì che sono la varia da il casino vabbè ho paura qui vicino e sistemiamo. Allora, qua rientro via, tengo le terre, ho comunque tutto ciò che è in polvere e non è distrutto, come le mie cifre di solito, tipo questa, ok, e mettiamo anche questa qua nuova, della NYX, che è interessantissimo, e poi c'è il tendo tinta, uno, due, ci mettiamo anche quello che deve finire, che è questo qui, qua ho due, come si chiamano, cose di scotch, per quando devo far veloce e non ho tempo da perdere, per fare gli smoky eyes, questa qua è, oddio raga, oddio, non lo sapevo che si fosse rotta, la sistemerò presto, beh, la metto qua, così, in modo più, non si strugge, poi, 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 poi ci sono vari rossettini, poi ci sono uno dei farsali, due, tre, questo qua, rientro, non va bene, non capisco perché ci sia tutto riflesso, questo qua, vabbè, lasciamo stare, non parliamone, che lo vedrete in un nuovo video, poi, 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 il piegaciglia va qua, di solito, qua vanno in mascara, quello della pupa di là, le mattizioni vanno di qua, questo la maschera arriva qua, poi, poi, di solito, ci metto, le cose che non mi servono molto, poi, questo qua, è un correttore, lo mettiamo qui, e questo qua, l'altro correttore, lo mettiamo qui, e questo qua, raga, è l'illuminante, dipende, che adoro, la cipira rotta la tengo lì, perché, probabilmente, so che non va a finire in posti sconosciuti, qui ci mettiamo i rossettini, in stick della, che non ha molti, questo qua, della rimmel, il solito, lo mettiamo qui, qua c'è la spagnettina, qua c'è l'altra spagnettina, e qui l'altra, ok, e qui ancora l'altra, poi, da questo lato qua, che mi viene a piangere, allora, le palette, tra l'altro, ho usato solo una mano per fare queste cose, quindi, le palette, di solito, le tengo, essendo ancora poche, spero per poco, perché le adoro, le tengo tutte lì di letto, ma, per quanto pare, non ci stanno, quindi, le metto a posto, e arrivo, vedete che casino, vabbè, ho paura, mi accuccio qui vicino, e sistemiamo, allora, qua, io entri a, tengo le terre, ma comunque tutto so che è in polvere, e non la distrutto, come le mie cifre di solito, tipo questa, ok, e ci mettiamo anche questa qua, nuova, della NYX, che mi piace tantissimo, e poi ci sono in condutinta, uno, due, ci mettiamo anche quello che deve finire, che è questo qui, qua ho due, si chiamano cose di scotch, per quando, devo far veloce, e non ho tempo da perdere, per fare gli smokey eyes, questa qua è, oddio, raga, oddio, non lo sapevo che si fosse rotta, la sistemerò, la sistemerò, presto, beh, la metto qua, così, in modo che, non si strughe, poi, 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 poi ci sono vari rossettini, poi ci sono uno dei farsali, due, tre, questo qua, va bene, non capisco perché ci sia tutto a tutto riflesso, questo qua, vabbè, ci non stanno, non parliamone, che lo vedrete in un nuovo video, poi, 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 il piedaciglia va qua, di solito, qua vanno il mascara, quello della pupa di là, le mattizine vanno di qua, questo è la mascara che arriva qua, qua di solito ci metto le cose che non mi servono molto, poi, questo qua è un correttore, lo mettiamo qui, e questo qua è l'altro correttore, che lo mettiamo qui, e questo qua, raga, è l'illuminante, i fenni, che adoro, la cipriarotta la tengo lì, perché, poi, almeno, so, che non va a finire, un po' si scoprisciuti, qui ci mettiamo i rossettini, in stick della, che ne ha molti, questo qua, della rimmel, il solito, lo mettiamo, qui, qua c'è la spagnettina, qua c'è l'altra spagnettina, e qui l'altra, ok, e qui ancora l'altra, poi, da questo lato qua, che, mi viene a piangere, allora, le palettes, tra l'altro uso solo una mano per fare questa cosa, quindi, le palettes di solito le tengo, essendo ancora poche, spero per poco, perché le adoro, le tengo tutte di lato, così, ma, a quanto pare, non ci stanno, quindi, le metto a posto e arrivo, ok, da questo lato e arrivo, qui abbiamo, questi qua, che sono dei, gli schietti di cotone, per il peeling, poi, la mia, adorata crema, della Havon, questo qua, che è l'acetone, quello con la spugnetta dentro, e non altro, questo qui, questa qua, che, è il, il detergente, il lato detergente della L'Oreal, questo qua, che è della, non c'è tanto l'entichetta, per il mio vestidio, un altro stick, però liquido, per le ascelle, questa qua, è una mia, fascetta, questo qua, è l'abbandonato per fare, che si chiamano, i chignon, e queste qua, sono delle, struccanti, che ho di riservo, questo qua, lo specchietto, che tengo qui, in casa di necessità, e direi che, qui, siamo a posto, ok, ho sistemato, qua ho messo, quella di Uda, questa qua, è la chocolate bar, qua c'è la quella di NYX, e qua le due, my must have, di Essence, qui c'è il mio, fixing spray, e ora, volevo farvi vedere, la novità, che, vaga, è smarrita, l'ho persa, ah no, qua sotto, che ho preso da poco, ho provato già, una o due tre volte, che è fantastico, raga, è il fixing spray, della MAC, prep prime, è la, come si dice, l'edizione gold light, è bellissimo, anche il pack, guardate, come brilla, lo adoro, e lo mettiamo qui vicino all'altro, qua abbiamo le due, come si chiamano, un palettine, tipo i due, cofanetti, di popa, che mi ha regalato il mio, mio amico, qua abbiamo la palette, di popa, che mi ha regalato un po' piccolina, e qua altre due palettine, che non uso mai, qui abbiamo, il gel, della L'Oreal, l'eyeliner gel, questi due, che sono due, ombretti, in gel, ma che non mi emozionano molto, qua abbiamo tutti questi rossettini, uno manca perché in borsa, perché lo metto spesso, e quindi lo tengo in borsa, poi, qui abbiamo i tre rossettini, della NYX, questi qui, e poi, questi tre, sono tipo luci da labbra, più che altro, e poi, il nostro dorato primer, che lo tengo, qui di lato, ok, quindi questa qua, è la make up collection, dopo averla messa a posto, poi abbiamo questo, che è l'ultimo cassettino, che poi l'ho messo meglio, dai, allora, qui abbiamo, ops, la tinta di mia madre, che non lo sa più perché, ha cambiato, ha cambiato colore, e, però la teniamo, per andare a buttare le cose, qua abbiamo, vari capi, campioncini, vedete, ci aggiungiamo anche, questi due di profumo, che mi hanno regalato, qui abbiamo, la maschera di Sephora, da fare nel secchiellino, la Pid Off, questa qui, la faccio giro, giro bene, bellissima, devo ancora provarla, ma, ne avevo già usato un'altra, questo qua, è lo scrub nuovo, e qui, diciamo che tengo, quasi tutti i prodotti nuovi, e invece, in questa scatolina qui, ci sono, i miei prodotti, per la skin care, e la crema corpo, che uso dopo la doccia, e la crema male, dopo la doccia, ora, la fila da scatolina, se ci riesco, viene la vita, ok, più o meno, poi, poi, qui abbiamo, tutti i prodotti nuovi, che non ho mai aperto, perché, eventualmente, tanti, non possono sapere, e, e qua, altri prodotti nuovi, e ci dobbiamo aggiungere, questo tipo qua, che abbiamo fatto, e me l'hanno regalata, me l'hanno regalata, in omaggio, vedete, e, quelli di, di L'Apoix, quando ho preso, il fondotinta, cioè, era unita, il fondotinta, non tolge, c'era, ma per chiudere qui, e niente, non ce ne vado, vabbè, vi metto la trinta qui, e poi, passiamo di là, abbiamo questo qua, con cofane di cioccolatini, ma che, in realtà, dentro ci sono tutti i miei smalti, poi, bacali tutto, qui abbiamo tutti i miei pennellini, che non ho fuori, perché non uso, e qui, ci sono tutte le mie maschere, che devo ancora usare, vorrei abbiarla, senza tirarla fuori, e che è fatta, vedete, tutte le mie mascherine, abbiamo il portacottoncini, lo specchietto che uso per fare video, yes, e l'iPhone,